ciao a tutti ragazzi sono gif g e adesso andiamo a riprendere la missione tornando nel presente visto che l'ultima missione si è svolta 15 anni prima allora ho lasciato in pausa perché 30 parte subito e niente ah mi dimentico sempre ricordatevi di iscrivervi mettete like se vi piace condividete i video perché sembra una sciocchezza ma aiuta tantissimo il canale quindi più aiutate il canale più il canale cresce più migliorano sia la qualità dei prodotti che tutto il resto e soprattutto il tempo che posso dedicarci sopra comunque riprendiamo allora otto ore dopo la morte di alassad quello che gli abbiamo sparato in testa perché hanno telefonato non andava bene quindi riprendiamo la partita non badate a quelle stronzate il loro contrattacco è imminente sparpagliatevi e coprite l'accesso a sud signore salgono lentamente su per la collina aspetta ordine dove cazzo sono che cazzo gente cosa arrivano dalla collina allora sai che ti dico li andiamo a prendere da sopra dov'è eccola qua dov'è guarda vedi che ho indovinato allora guarda che bello adesso vediamo cosa abbiamo nell'altra mano ah il cecchino anche squadra mantenete la posizione il nemico ci ritiene molto più numerosi ricevuto questo mi piace arrivo dalla missione tutta col cecchino sono allenato quindi oh ma hanno individuato i maledetti un colpo un morto adesso ci penso io alla portina sulla strada forse si stanno portando a dove vogliono attaccarci con i mortai è il momento di ripiegare bene mettiti alla mitragliattrice leggera e copri il fianco ovest vai 2 in ritirata devo scendere 3 in movimento 3 arrivato 2 all'interno dell'edificio est strada orientale bloccata dove siete ok dobbiamo scendere no no cavolo dai non devo morire così vediamo da dove ci fa ripartire bene sop mettiti alla mitragliattrice leggera e copri il fianco ovest vai 2 in ritirata 3 in movimento 3 arrivato 2 all'interno dell'edificio est strada orientale bloccata dobbiamo andare su via 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 ah ho capito cosa devo fare uh ecco cosa ci ha ucciso non sono caduto dove sono sop vai alla mitragliattrice leggera svelto e sull'elicottero schiattato bella sta vetro guarda come scendono le auto dove siete vai 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 sop corri sop usa i detonatori ce ne sono quattro nella taverna smetto ok avvicinatevi eccolo qua è avanti il prossimo dov'è l'altro dov'è l'altro dov'è l'hai lasciata ah eccolo qua dove siete avvistati carri armati in avvicinamento alla nord cazzo via oh merda mi hanno colpito me che nei guai sop vai al sienile nella periferia nord del villaggio e ferma quei carri usa il javelin che troverai sul posto ok cazzo tutto io però eh vai 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 corri sop il javelin è nel sienile spesso spesso fammi correre dove sono arriverò e questo sienile si eccolo lì dov'è sto carro mamma mia che botte che le dite di fare un po' di copertura anche no 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 dai rigenetri dai 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 ok dov'è l'altro carro dove sono finiti eh via è un altro andato che spettacolo che spettacolo sta arma dove sono aiuto mi hanno preso di mira cazzo 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 dov'è dai l'ultimo carro dov'era 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 eccolo là un po' di copertura giù carica carica mamma mia se è lento a caricare sto cosa cazzo 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 caz Siamo impazziti per arrivare all'area di acterraggio e ora vogliono farci tornare indietro. Ma dai, veramente, sempre io devo andare avanti, vai, 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 in tre minuti pure. Corri, 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 Sop. Valedetto Terminator. No, no, dove ti sei incastrato, Sop? Tende a incastrarsi un po' troppo facilmente, eh? No. Ok, ci siamo, dovremmo aver trovato il posto giusto. Salta, salta, ok. Ci siamo? Obiettivo completato, benissimo. Cazzo mi sparano addosso però. Dai, ma vuoi caricarla sta cavolo di arma? Vai, 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 vai. E gli altri dove sono finiti? Sono l'unico vivo. Non mi schiacciare. Dove sei? Vai, vai, vai dentro. Mi hanno detto che vi serviva uno strappo. Tutti a bordo, svetti, svetti. Eh, non ho armi io però, eh. Andiamo, andiamo. Grandi. Uh, questa missione qua è stata per un'orecchia veloce. Ho dovuto andare in punta e poi tornare indietro. Bella roba. Ok, siamo tutti a bordo. Via, via! Ok, ce la diamo. Va bene. Faceplate, weekly phone 2-7. Sono tutti a bordo. Torriamo a casa. Passa e giuro. Ah, visto che è stata breve questa qua, ne facciamo dietro subito un'altra, va. Troppo breve, altrimenti. Vediamo. Abbiamo preso il bastardo. Comunque, non è lui il responsabile della morte dei vostri marine. Mi dispiace. Imran Zakhaev, eh? L'uomo è un fantasma. Il mandarino. Secondo l'intelligence. Beh, io ho un piano per trovare. Vi ascolto. Vicino di papà. Il figlio di Zakhaev, comandante. Dai, guardano con l'esplosione alle spalle. Non cadono mai. Era quello in macchina all'inizio. Non possiamo trovarlo. Non capisco. E questo piccolo delinquente saprà come trovare Zakhaev. I peccati dei nostri padri. Ma quanto è stronzo. Adesso sappiamo anche come mai gli manca un braccio, eh. Molto bene. Se non lo sapete, perché state guardando solo sta puntata, andate nella puntata precedente. Scusate, sempre la tosse. Ok, saliamo. Va bene. Siamo arrivati. Ok, siamo quelli russi. Tu e preparati a eliminare le guardie sulla torre al mio segnale. Gli altri con me. Ah, eccole là. Che dici? Me lo dai il segnale? Stop, falli fuori. Ora. Via, via, via. Fuoco a volontà. Dove sono gli altri? Vediamo se riesco. Dai, ma non posso lasciare tutto l'oro. Capitano. E i nostri. Dove sono? Facente. Opla. Quello è più costano. Allora, prendiamo lo stesso. Comunque, questo gioco qua, il cecchino, è proprio l'arma suprema, eh. Ci si trova veramente bene. Anche se l'ho mancato prima. Dai, carica. Soppopera. Dove sei? Non li vedo io, i nemici. Ah, in alto. Voilà. E anche quella è fatta. Tutti giù per terra. Dove siete? Dov'è sto qua? C'è qualcuno ancora. Che dite, avanziamo? Va bene. No, ma la pistola mi volete... Eh, vai. Bene, ora ripuliamo tutto. Indossate le uniformi nemiche e spegnete i fuochi. Kamarov, mi servono i tuoi uomini a terra in caso i piloti facciano domande. Tenetele occupati, perché non troveremo il figlio di Zakaev. Non abbiamo molto tempo. Muoviti. Ok. Due ore più tardi. Amico, con quell'uniforme si è ridicolo. Per fortuna sei quassù, perché di russo non hai proprio nulla. Vediamo cos'altro. Allora. Bravo sei, qui Voltour 1-6. Stiamo seguendo un convoglio nemico diretto verso di voi. Sono sei veicoli. Passo. Ricevuto. Nessuno spari fino al mio ordine. Ok, adesso teniamo la mitraglietta in mano. Anche se forse questa è più bella. Sì. Preferisco. Si carica più velocemente. L'altro ci mette una vita. Ah, le due guardie morte. Signore, bersaglio in vista a bordo del terzo veicolo. Gli sto passando davanti adesso. Ricevuto. A tutte le squadre rimanete in attesa. Bersaglio sulle jeep davanti al BMP. Ci serve vivo. Occhio a dove sparate. Attendete. Dov'è? Dov'è? Attendete. In questo veicolo? Fateli fuori. No, ho sbagliato. Dai. No, è uno di no. Cavolo, sono tutti vestiti uguali. Sta per colpire la torre! Tranetevi! Ma perché è proprio la torre? L'ha detto pure lui. Merda. Cazzo, va sempre per terra, finisco. Guardalo lì. Cuor di leone. Sto tardo. Se t'acchiappo con la bottiglia adesso, di meno. Dov'è finita? Il bersaglio sta scappando. So, vai con Griggs e seguitelo. Noi pensiamo ai rinforzi nemici e vi raggiungiamo. Via, via! Guarda che novità, eh. Che sono... Dov'è? Corri, so. Eh, di nuovo i cani no, eh. Stronzo. Eh, lo vedo. Ma non corri, so. Come mai di tanto in tanto ti fermi? Siamo a zoppi. Vai, vai, vai. Cazzo, sono troppi. Dai, ma così ci scappa. Dobbiamo prenderlo vivo. Bersaglio di nuovo in movimento. C'è una piccola traversa sulla sinistra. Potreste chiuderlo lì. No. Maledetto cane. L'ho beccata di culo io la traversa. Diversi nemici sull'altro lato della recensione in ferro. Eh, però io sono rimasto con un fucile di precisione solo. Ok. Merda, merda. Ma venite a darmi la mano. Che scappa quello. No. La macchina non l'avevo vista. Cavolo. E adesso da dove ci fa ricominciare? Però dammi le... No, non mi dà le munizioni. Eh, sarebbe stato bello. Oh, l'ho preso di striscia, ma l'ho preso. Tu sei ancora vivo. Dai, datemi la mano. Prima che spodono di nuovo le macchie. Eccola lì che... Cazzo, sono senza colpi. Credite di darmi qualche munizione? Benissimo. Basta chiedere. Ok, procediamo. Forza stile, secondo piano, a destra. Uno dietro il contenitore ribassato. Nemico il contenitore ricevuto! Vabbè. Viva, via. Arrivo nel vicolo verso di voi a sinistra. Grande che ci fa supporto dall'alto. Bellissima questa cosa. Chi è che mi spara? Sono Wolverine io, eh. Mi rigenero. Al volo. No, l'ho sentita la granata. Cazzo, cazzo. No, l'ho sentita. Ho ricevuto il primo piano al libero. Attendite. Ok, bersaglio eliminati. Potete andare. Sguadra bravo. Avete sempre in vista il bersaglio. Passo. Eh, più o meno. Il bersaglio è entrato nell'edificio a cinque piani. Dov'è? Sopra, sicuro. Vai. Gas. Sopravvive, Gas. Continuiamo a averlo sempre con noi. Cazzo. Cazzo. Lui è un immortale, Gas. Ecco perché. Dai, dai. Che è di qua. E allora? Voglio il fucile. Bastardo. Tutti lì dentro erano cos'è? Tipo la 500 con i... I pagliacci. Aspetta, cambiamo armi che qua continuano a essere buone. Allora, ricarica. Recupera. T'ho visto. Dai, dai, dai. Allo stretto il fucile a pompa, ragazzi, è proprio il migliore. Non c'è una grossa varietà di armi, eh, in questo gioco. Però quelle che ci sono funzionano bene. Si adattano a vari stili di gioco. Dov'è? Andato di nuovo sopra? Cazzo. È grande. Occhio. Dove sono? Mio caro Gas. Ok, bersagli eliminati. Potete andare. Un attacco di trosse. Dove cavolo è? Ah, eccolo qua. Forza il passato. No, non cadere di sotto. Di qua. No. Sarebbe bello se mi daste qualche indizio su dove passato. Eccolo qui. Era proprio un po' nascosto. Dove sei? No, era uno dei nostri. Meno male che sono Terminator quelli nostri. Getta la pistola. Gettala. Gettala. Eh, gambizzalo. No, è troppo pericoloso. Non sparate. So, prendi la sua arma e bloccalo. Ma se sono qua io. Gettala! So, bloccalo. Guardalo. No, eh. Non mi dire che mi hai fatto perdere. Non mi ricordo più come va a finire sta missione. Il ragazzo ha qualche problema. Baseplate. Qui bravo sei. Il figlio di Zakaef è morto. Rientriamo alla base. E quindi è andato... Ah, abbiamo fallito. Lascia perdere. Conosco Zakaef. Non farà finta di niente. Mandiamo. Il mandarino si vendica sempre. Va bene, ragazzi. Ci fermiamo qua. Alla prossima. Passo e chiudo. Alla prossima.